Abbiamo visto un'ultima cosa, una foto con Totti di un paio d'anni fa, ma tu c'era aspettabile di tornare dopo un po', stiamo ancora in campo a 40 anni, Totti? Sì, perché Totti può giocare fino a 50 anni, io perché rispetto tanti ai giocatori, perché se no dovevo dire che 40 giocatori di tante squadre italiane lo fanno un Totti. Sono contenti i romanisti! Totti, Maradona, vicino c'è Mauri, ancora Maradona, Totti? Il limite dell'area non tira, e poi prova la conclusione, Francesco Totti, 2-1 per la squadra per l'incontro, ha segnato Francesco Totti. Bellissimo! Quanti sono i gol complessivi di Totti in Serie A? Allora, Totti il campionato è 250, è il secondo marcatore, mi fate le domande a trabocchetto tra te e Max. Grazie! 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 Totti, come stassi? Totti è un fenomeno, Totti è un fenomeno, devi giocare fino a 50 anni. Dico Francesco, non lasciare il calcio, ti prego, perché io se no dove mi annoio come un matto. Lui è il calcio, è il pallone, è quella sfera che gira, è lui, è come se fosse la sua faccia, quello che ha fatto noi con la palla non l'ha fatto nessuno e mai lo farà nessuno. Ha fatto divertire, non solo i napoletani, ma gli argentini, tutti quelli che l'hanno guardando. Ha fatto cose straordinarie, gol straordinari, assist, tutto quello che c'era da fare penso che l'ha fatto lui. L'ho conosciuto e questa è una foto che sinceramente mi emoziona vederla perché abbracciare i giocatori più forti della storia del mondo nel calcio è bellissimo.